Musica Mercoledì 21 marzo, buongiorno e bentrovati con l'edizione del mattino del TGL News Derubati dei risparmi di una vita e la tremenda esperienza vissuta da marito e moglie che vivono a selva di San Bernardino di Betto. La lunedì, come ogni giorno, sono usciti di casa presto e al loro ritorno nel tardo pomeriggio hanno trovato l'abitazione messa completamente a soccuadro. I ladri entrati rompendo una finestra della cucina hanno tagliato la cassaforte con un flessibile portando via soldi e gioielli ma anche una valigetta con importanti documenti e una cassetta con attrezzi da lavoro. Sul furto stanno indagando i carabinieri. Dalla cronaca alla politica i quasi mille parlamentari neoeletti sono pronti a varcare la soglia di Palazzo Madama e Montecitorio dove sono iniziate proprio in questi giorni le operazioni di accoglienza e registrazione. spiccano anche i cinque parlamentari piacentini, Pierluigi Bersani, Paola De Micheli, Tommaso Foti, Elena Morelli e Piero Pisani. Ricordiamo che venerdì si aprirà la diciottesima legislatura con la prima riunione delle Camere e l'elezione dei Presidenti dei Comitati di Presidenza delle Giunte per la Verifica dei Poteri. Viene ripristinato questa mattina dai tecnici e degli operai del Comune il doppio senso di circolazione lungo l'intero tratto di via Alberoni. In città nei giorni scorsi la Giunta Comunale aveva infatti revocato l'ordinanza dei predecessori che stabiliva il senso unico di marcia tra le intersezioni con via Trebiola e via dei Mille. Il repristino del doppio senso in via Alberoni dovrebbe inoltre alleggerire il carico di traffico in via Sant'Ambrogio nei pressi della stazione ferroviaria. La sicurezza alimentare è uno dei temi maggiormente sentiti dai cittadini, sempre più attenti e preoccupati di avere cibi sani sulle proprie tavole. Per garantirli tutti i passaggi della filiera produttiva devono seguire delle regole molto ferree e precise che mettono l'Italia ai vertici internazionali proprio per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Se ne parlerò questa sera alle 21 su Tele Libertà nella nuova puntata di Fuori Sacco. La trasmissione condotta dal direttore di Tele Libertà Nicoletta Bracchi e dal suo vice Michele Rancati, ospiti in studio, allo spazio e rotative, studiosi ed esperti rappresentanti di quelle imprese che hanno a che fare con i temi legati alla sicurezza alimentare. Un discorso sicuramente molto interessante e molto attuale. La nostra edizione termina qui. Il prossimo appuntamento è con il TGL alle 13.15, ma l'informazione continua come sempre sul nostro sito liberta.it. Grazie a tutti.